Chi è l'Igradi S? L'Igradi S è un distributore di tecnologie per la didattica. Abbiamo sedia a Piacenza, ma lavoriamo in tutta Italia e forniamo alle scuole le soluzioni che servono per affrontare le sfide del nuovo millennio. Voi siete qui oggi come sponsor agli Stati Generali, in questa edizione del 2019. Come mai questa scelta? Beh, la tecnologia offre alle scuole molte opportunità, ma anche molte sfide, ai docenti, ai ragazzi. Quindi il modo migliore per affrontare queste tematiche è sicuramente il confronto. Quindi il momento di confronto che abbiamo l'opportunità di vivere oggi è sicuramente importantissimo ed è molto allineato con la nostra filosofia. L'Igradi Education Community, di cosa si tratta? La nostra community di docenti nasce proprio con lo stesso obiettivo, con un obiettivo analogo a quello di Stati Generali della Scuola Digitale, quindi di parlare della scuola digitale e di affrontarla al meglio. La nostra Ligra Education Community Lieduco ha una casa, un sito web www.lieduco.it che vuole offrire proprio uno spazio di confronto tra i docenti e per i docenti. All'interno della nostra community noi mettiamo a disposizione dei docenti video tutorial, guide in italiano, tutto il supporto necessario per dare a loro l'opportunità di prendere la tecnologia effettivamente come un'opportunità, affrontarla al meglio e portarla in classe. Tra questi anche dei piani di lezione in italiano mappati sugli obiettivi formativi del MIOR. Per noi la tecnologia è al servizio della didattica, quindi deve essere sempre un mezzo, mai un fine, ed è quello che proviamo a fare con l'Ieduco. Quali sono le soluzioni che avete portato oggi al vostro corner? Oggi abbiamo voluto portare a questo evento due soluzioni nuovissime. Una è una stampante 3D, Scalto 2 Edu, innovativa, portatile e facilissima da usare, che vuole un po' rivoluzionare l'idea della stampa 3D all'interno della scuola. Vogliamo che ogni gruppo di lavoro abbia la propria stampante 3D e possa confrontarsi con quelle che sono le sfide della modellazione 3D. L'altra soluzione che abbiamo portato, Plezmo, invece è un kit di tinkering, quindi moduli wireless indipendenti con i quali i ragazzi possono realizzare dagli otto anni in su veramente tutti i progetti che la loro creatività suggerisce.